Eccomi qui, ciao a tutti, siamo quasi, stiamo qua, no aspetta la rifaccia, eccomi qui, ciao a tutti, siamo finalmente arrivati al 6 luglio 2016, tra poco gli sposi arriveranno, prima dell'arrivo degli sposi abbiamo già fatto qualche piccola intervista e adesso andremo a fare delle altre. Signori miei, abbiamo qui una cosa che non è mai stata fatta prima, la chitarra a quattro mani, in compagnia di Pierpaolo e il suo coro. Innanzitutto noi ci divertiremo in questo frangelo, non lo metto in dubbio, successivamente noi gli auguriamo un divertimento ad eterno. Ho visto la luce, ho visto la luce, il problema è che io ho la chitarra ma mi manca uno strumento ritmico, tipo anche una gran cassa, tipo un, ciao a tutti. Ma non è che mi faccio un ritmo qua l'uno. Mi sta piacendo, scrivina va bene? Una splendida giornata Andava benissimo, io penso che... Qualche film però... No, no, però guardi, lì secondo me dovrebbe fare il batterista. Io da questo tu... Te lo presenti. Guardi, lasci il suo lavoro, senta a lì, perché guarda, si fa il batterista, anche cucca. Io so che lei per anni ha fatto, la maestra, l'insegnante. Un consiglio vogliamo dare alla sposa, un consiglio però non da sposa, ma professionale, proprio per il lavoro. Per amare i bambini, questa è la prima cosa, abbracciarli e baciarli in continuazione. Io mi sento un po' bambino, mi potrebbe abbracciare, mi potrebbe abbracciare, mi abbracci, mi abbracci, mi abbracci sì! Ho visto la luce, ho visto la luce! Grazie!